Qual è il ruolo più forte di tutto FIFA? Andiamo a scoprirlo nel primo torneo tra ruoli della storia di YouTube Italia Allora ragazzi, prima di iniziare so che sarete un po' confusi, c'è bisogno di fare qualche piccola premessa Come avrete già intuito andremo a creare un torneo tra ruoli, ovvero ho creato 15 squadre Una composta da tutti i migliori portieri del gioco, una da tutti i migliori difensori centrali Una da tutti i migliori terzini destri, terzini sinistri, centrocampisti centrali, attaccanti alla destra, alla sinistra e via dicendo Per tutti i 15 ruoli presenti su FIFA, quindi anche la squadra composta da solo Ada e da solo Asa Dopodiché inseriremo queste 15 squadre in un torneo e decreteremo qual è il ruolo più forte di FIFA Ma raga, prima di iniziare devo farvi vedere un po' le squadre e devo dirvi alcune accortezze che ho dovuto fare Perché davvero ci ho messo già solo due ore per preparare tutte le squadre, è stato un incubo Quindi già solo per questa cosa raga, iscrizione qua sotto, già lo sapete perché secondo me viene fuori un video clamoroso Uno dei migliori del mio canale, ipotizzo, ma in realtà lo sto registrando adesso, quindi non lo so, ma secondo me verrà un bel video Allora, come squadre dove inserire i giocatori ho preso le squadre del campionato americano Perché non avevano nessun top giocatore e quindi ho inserito tutti qua Come vedete questa qua per esempio è la squadra di tutti i migliori portieri del gioco Quindi sono andato su cerchi giocatori, ho preso i primi 20 portieri per Ovalon e li ho inseriti in squadra Stessa cosa con la squadra dei terzini destri Di Lorenzo, Hakimi, Arnold, Sergio Roberto, Lucas Vasquez, Masraoui, Danilo, Koundé, Ben White e Walker in porta Stessa cosa con i terzini sinistri dove per esempio abbiamo Theo e Davis davanti Ecco, prima di andare avanti con le squadre vi faccio una piccola precisazione Prendiamo la squadra dei terzini destri come esempio Come vedete ragazzi in porta c'è Walker che ha 21 di overall Perché questa cosa? Ho dovuto modificare il ruolo di uno dei giocatori Come vedete sono tutti i terzini, mentre il portiere non ha come ruolo terzino destro Guardate qua, ma ho dovuto modificarlo in portiere Ho dovuto fare questa cosa perché in questo modo potevo lasciare Walker come unico portiere nella formazione Se no avrei dovuto lasciare il portiere originale della squadra E poi nelle simulazioni non avrebbe giocato Walker ma avrebbe giocato l'altro portiere Quindi per ogni squadra sono andato a cambiare il ruolo a un giocatore e l'ho fatto diventare portiere Guardate ragazzi, terzini sinistri, Mario Rui, 19 di overall e portiere Stessa cosa se andiamo avanti, lo vedrete raga Questa è la squadra di difensori centrali, delict a 20 di overall Quindi è diventato un portiere Seconda precisazione, come potete notare raga Poi vi faccio vedere tutte le squadre Anche in panchina ci sono solo giocatori di quel ruolo Quindi qua in campo abbiamo tutti i migliori terzini destri E in panchina abbiamo altri terzini destri In questo modo durante le simulazioni giocheranno effettivamente solo i giocatori di quel ruolo Perché se lasciavo solo in panchina i giocatori originali della squadra Il computer nelle simulazioni li faceva entrare Quindi raga queste sono le precisazioni Ultima cosa, la disposizione in campo è stata fatta in maniera automatica Perché FIFA quando tu vai a creare una squadra Ti mette nei vari ruoli i giocatori nella posizione migliore Quindi in questo caso per esempio Di Lorenzo Tra tutti era quello che aveva il miglior tiro in porte Ed era quello che stava meglio in attacco Stessa cosa per esempio nei difensori centrali Come vedete il gioco ha messo prima punta Sergio Ramos Perché a quanto pare è quello che sta meglio prima punta Tra tutti i difensori centrali Detto ciò, guardiamo bene le squadre Ah ragazzi scusate l'interruzione ma volevo parlarvi di un'applicazione clamorosa La migliore applicazione per gli amanti del calcio Sto parlando di OneFootball Che mi permette e vi permette di rimanere sempre aggiornati Su tutte le news che girano attorno del mondo del calcio I risultati di tutte le partite in giro per il mondo I trasferimenti, il calcio mercato In questo periodo ragazzi quanto è importante il calcio mercato Non vi nego che la utilizzo anch'io per la realizzazione di alcuni miei video E soprattutto la cosa clamorosa che difficilmente trovate su altre applicazioni E che qui su OneFootball potete trovare tutti gli highlights delle partite di serie A, di serie B e di serie C Quindi ragazzi cosa aspettate? Scaricatela qui sotto dal link in descrizione in maniera completamente gratuita E se siete da computer o se preferite vi lascio il QR code sullo schermo Vi basta cliccarlo Ora torniamo al video Questa è la squadra dei portieri E l'avete già vista Stessa cosa avete già visto quella dei terzini destri E avete già visto quella dei terzini sinistri Squadra di difensori centrali Sergio Ramos davanti In porta ovviamente ho messo dei link raga Perché lui con le braccia sappiamo che ci sa fare E poi abbiamo raga Van Dijk, Militao, Marquinhos, Dias, Skriniar E Lucas Hernandez e Rudiger sulle fasce Ok Forse prima ho detto Teo Hernandez Però vabbè è Lucas Hernandez Teo Hernandez ovviamente è nella tua dei terzini sinistri Eccolo qua Ovviamente per non farci mancare nullo Ho fatto anche la squadra delle Ada E la squadra delle Asa Con in porta rispettivamente Dunfries e Udoji Poi c'è la squadra di CDC con Sergio Bruschetta in porta Perché qualcuno deve andare a fare il portiere raga E ho messo Buschets Perché ora ho ancora gli incubi di Buschets Che nel 2010 fa così E fai spedere Tiago Motta Quindi Buschets va in porta Abbiamo poi la squadra di centrocampisti centrali Che forse è la più completa Perché sono giocatori che sanno fare Sia la fase offensiva che quella difensiva E poi abbiamo la squadra di trequartisti Dove c'è Mertens in porta Davanti Avertz, Royce, Bruno Fernandes, Pellegrini, Odegaard, Cabrais Che non so chi sia Mugnain, Locial, Sozzivinsky e Musiala Squadra degli esterni destri Inaki Williams, Sanè, Llorente, Gnabri, Gioomario, Diaby, Canales, Buendia, Candreva, Ottavio E Quadrado in porta Questa forse è una delle più scarse Stessa cota per la squadra di esterni sinistri Dove in porta hanno Ferreira, Carrasco E qua c'è Chiesa davanti raga Passiamo poi alle ali sinistre Ecco raga Questa squadra fa paura Ma che giocatori hanno? Neymar, Leao, Sonni in porta Rashford, Kvitschakva-Raskelia Vinicius, Fode, Grealish Mamma mia E anche quella delle ali destri raga fa paura Messi e Salai in mezzo al campo Kuluseski, Rafi e difensori centrali Prima punta Non so perché ma il gioco ha messo Felipe Anderson Passiamo alla squadra degli AT Questa è la mia squadra raga Perché c'è Paolino, Dybala insieme a Kramaric Enkunku Davanti Di Maria, Benzema, Depay Diogo Giotto, Malinoski, Zagnolo, Roberto Firmino E in porta Sadio, Mané Perché ho messo Mané? In porta si usano le mani Lui si chiama Mané Battuta bruttissima Andiamo avanti Manca solo la squadra degli attaccanti Bappe, Griezmann, Kane, Cristiano Ronaldo Holland, Lewandowski In porta, Ciro, Immobile Anche questa fa paura raga Ma in realtà tutte le squadre sono super forti Ma hanno delle grosse grosse lacune Perché per esempio la squadra degli attaccanti raga In difesa si trova 4 punte Quindi non lo so raga Vi ho fatto vedere le 15 squadre Adesso vado a inserirle nel torneo Ma prima di iniziare raga Commentate qua sotto Scrivendomi quale squadra vincerà Quindi scrivetemi Team CC Team Terzini Destri Team Portieri Team Attaccanti Non lo so Quella che pensate che vincerà Ovviamente alla fine Chi indovina si becca il cuoricino E ragazzi Io direi che possiamo iniziare Creiamo il torneo Ragazzi ho aggiunto le 15 squadre all'interno del torneo Solo che ne serviva una sedicesima Perché non si può fare un torneo con 15 squadre Quindi ho messo la squadra più scarsa del gioco Una delle più scarse del gioco Che arriva direttamente dall'India Con mezza stella Sarà fortunato Chi se la troverà nei gironi Serviva una squadra da eliminare E quindi ho messo questa Come funziona il torneo? Semplice 16 squadre Quindi 4 gironi da 4 Passano le prime 2 E poi fase di eliminazione diretta Andata E ritorno Vedremo quale squadra arriverà avanti Ma prima ci sono da fare i gironi E quindi andiamo avanti Creiamo a caso i gironi Tattata Tattata E andiamo Let's go Ah io lago ogni tanto guarderò il telefono Perché mi sono segnato a ogni squadra Quale ruolo corrisponde Perché se no impazziamo Allora questi sono i gironi Gruppo A Abbiamo ADA ES ATT E AT Gruppo B Abbiamo Terzini sinistri Portieri Esterni destri E CDC Gruppo C abbiamo ali destre, ali sinistre, quindi una sorta di derby, centrocampisti centrali e COC, tre quartisti Mentre gruppo D abbiamo difensori centrali, poi la squadra che verrà eliminata, terzini destri e Asa Quindi quelli del gruppo D sono fortunati Ragazzi, le partite dei gironi sono solamente andata Quindi adesso vado a simularmi fuori dalla registrazione le prime due partite dei gironi E poi per l'ultima vedremo un po' com'è la situazione e dove ci sarà ancora tutto da decidere Andremo a simularcele insieme Quindi ragazzi, a dopo Ah, tra l'altro raga, quando simuliamo le partite è molto bello che se guardate qua sotto e dall'altra parte leggete qual è la formazione Quindi in questo caso CDC contro portieri, così anche voi non impazzite a ricordarvi a quali squadre corrispondono Vabbè, io questa, visto che vi stavo dicendo questa cosa, voglio farvi vedere come va Vediamo i portieri che combinano 1-1 segna Ascesni Va bene E vedete che ragazzi i cambi li fanno, ma comunque con giocatori di quel ruolo Perché per esempio sono entrati Benna Serra e Brozovic al posto di Stomas e Kantè e sono tutti CDC Ah, tra l'altro, altra piccola cosa, mentre i CUC battono le ali sinistre 2-0 Vi ho detto all'inizio che questo è il primo torneo della storia di YouTube Italia per quanto riguarda i ruoli Speriamo Ok raga, ci siamo, abbiamo terminato la seconda giornata, in realtà qua ho sbagliato e ho già simulato anche la terza giornata Per quanto riguarda la sfida tra Ada e esterni sinistri Però vabbè raga, c'è ancora la sfida tra Minnesota e Los Angeles Che dovrebbe essere la partita tra ATT e AT E vediamo un po' raga, chi vince passa qua Dunque sfida tra ATT e AT per passare alla fase finale Ai quarti di finale, vediamo un po', 3-2-1 3-0, gli AT, di bala, di bala, let's go Gruppo B dove invece i terzini sinistri e i portieri sono praticamente già passati Quattro punti a testa e ora si giocano il primo posto Vediamo un po', terzini sinistri contro portieri che incredibilmente stanno andando benissimo E qua perdono però Jordi Alba I terzini sinistri sono ufficialmente ai quarti di finale E rimane la sfida tra ED e CDC Forse vincendo con tanti gol di scarto potrebbero rubare il posto ai portieri Una delle due Vediamo, il pareggio non serve nessuna delle due Esterni destri contro mediani 3-2-1 3-1 per i mediani Tonali, Chessy e Kimmich Attenzione, forse i portieri sono usciti Lo scopriremo tra poco Nel gruppo C invece raga la situazione è a quanto ambigua Perché? Aspettate che vado a vedere I CC hanno 6 punti Mentre si stanno giocando il passaggio del turno con 3 punti I COC e le ali destre L'Inter Miami che sono le ali sinistre sembrano praticamente eliminati Però raga vediamo un attimo che succede Prima sfida Ali destre contro ali sinistre Il derby Mamma mia 3-2-1 3-0 Messi Messi Saka Tra l'altro Messi che fa due gol alla sua attuale squadra Incredibile Incredibile E ora rimane solo la sfida tra COC e CC Dove in teoria chi vince passa Sì raga chi vince passa Perché una a 6 e le altre a 3 CC contro COC Vediamo un po' che succede 3-2-1 1-1 1-1 E mi sa che allora una delle due squadre è condannata Ma non mi ricordo chi Lo scopriremo tra poco che è anche più bello Ultimo girone Quello dove c'era la squadra cavia Ok La squadra cavia è ultima Per fortuna E quindi rimangono DC, TD e Asa Che si giocano il passaggio del turno Anche perché sono a 4, 3 e 2 Prima partita abbiamo I difensori centrali che giocano contro la squadra cavia Dovete vincere ovviamente Ovviamente vincerete Uff Per fortuna Per fortuna se no la squadra cavia rovinava tutto Sergio Ramos e Sergio Ramos Messo come punta fa doppietta E quindi rimane la sfida tra terzini destri e Asa E ragazzi Una a 3 punti L'altra a 2 Chi vince passa O i terzini destri O le ali sinistre arretrate Vediamo 3-2-1 2-2 E allora mi sa che le Asa sono condannate Andiamo un po' a vedere quali cose sono passate E soprattutto gli accoppiamenti dei quarti di finale Ragazzi Questi sono gli accoppiamenti dei quarti di finale Vi vado a leggere a cosa corrispondono La prima sfida è centrocampisti centrali contro Ada La seconda sfida AT Contro CDC La terza sfida Difensori centrali contro Ali destre E l'ultima sfida Terzini sinistri contro Asa Quindi ragazzi Se sono rimaste queste squadre Vuol dire che la squadra dei COC E la squadra degli ATT Due tra quelle che avevamo dato come favorite Sono uscite Follia raga Ma gli ATT come hanno fatto uscire? Era il Minnesota Dove è arrivato il Minnesota? Ultimi nel loro girone con 3 punti Mamma mia Mamma mia Andiamo con i quarti di finale Tra l'altro raga Io ho messo partite di andata e ritorno Ma per non rendere troppo lungo il video Ora mi simulo io tutte le partite di andata E ci vediamo direttamente con il ritorno Che tanto potrete anche vedere Qual è il risultato dell'andata Che apparirà sullo schermo Qua da qualche parte Ok raga Sono finite le partite di andata Risultati folli Ma non vi spoilerò niente Andiamo con il ritorno Si parte con Ada contro centrocampisti centrali 2-1 all'andata Per i centrocampisti centrali Vediamo cosa succede 4-2 Mamma mia Che forti I centrocampisti centrali De Bruin Che sbaglia il rigore Ma poi segna E abbiamo anche il sergente E boh Si è buggato Goretzka Vabbè Sono passati i cc Eh raga Ma mi sa che i cc Sono troppo forti Seconda sfida Abbiamo Eh non me ne ricordo Cdc contro atti All'andata 2-1 per i cdc Occhio che gli attidi di bala Rischiano di andarsene Vincono 1-0 Qua però ci sono i gol in trasferta Quindi mi sa che sono passati i cdc Si Cdc in semifinale Voglio il derby cdc contro cc Ve lo dico eh Terza sfida Abbiamo le ali destre Contro i difensori centrali 3-1 Per le ali destre guidate dal capitano Leo Messi Vediamo un po' Vediamo un po' 3-2 al ritorno Per i difensori centrali Ma non basta Passano le ali destre Peccato Sergio Ramos raga Lo voleva avanti nel torneo Vabbè E ora Ultima sfida Dei quarti di finale Per decretare le magiche 4 in questo torneo Asa contro terzini sinistri Questo è un derby raga eh Tutti i giocatori Sulla fascia mancina In basso 2-2 all'andata Vediamo un po' chi passa A sinistra gli asa A destra i terzini sinistri 1-1 Però per i gol in trasferta Passano le asa Quindi Teo Hernandez eliminato Vediamo un po' gli accoppiamenti delle semifinali Follia raga Ma che torneo è? Ma che torneo è? E questi ragazzi sono gli accoppiamenti delle semifinali Le magiche 4 C-C contro C-D-C Il derby E ali destre contro Asa Mamma mia raga Mamma mia Una tra C-C e C-D-C Ci abbandonerà prima della finale E allora andiamo con le semifinali Questa volta ci vediamo anche l'andata Si parte con centrocampisti centrali Contro mediani 3-2 1-2-2 Equilibrio totale Totale E ci sta raga Sono giocatori che giocano a centrocampo E quindi l'equilibrio è quello che ci aspettavamo E ora la seconda sfida Questa invece tra le ali destre e le ase Vediamo se sarà più importante avere giocatori offensivi O avere giocatori che fanno tutta la fascia Secondo me vincono le asa raga E invece no 2-0 per le ali destre Momo Salah e Felipe Anderson Ma ora c'è il ritorno Non è finita qua Si parte con la prima sfida C-D-C contro centrocampisti centrali 2-2 all'andata Vediamo che succede 1-0 Passano i C-D-C nonostante l'errore di Cassie Segna Tonali A casa i centrocampisti centrali A casa i favoritissimi di questo torneo E ora abbiamo l'ultima semifinale Per vedere chi andrà contro i C-D-C O le asa O le ali destre Che hanno vinto 2-0 all'andata E vincono anche al ritorno 3-2 Berardi Rodrigo Rodrigo E quindi avremo ali destre Contro Mediani Per la finalissima Io prima della finale raga Però voglio vedere un po' Le statistiche di questo torneo Cioè Chi è capocannoniere? Messi Ok Messi Capocannoniere Nella sua squadra degli ali destre Con 5 gol Poi Perisic Goretzka Di Lorenzo Che era schierato punta Ragazzi ma Sergio Ramos Aveva segnato tanto Ma dov'è Sergio Ramos? Ah eccolo qua Ok 3 gol segnati al sesto posto Non lo vedevo Mentre assist Perisic E Messi al secondo posto Rete inviolata Mané ragazzi Con le sue mani Mané È stato il miglior portiere Di questo torneo Ma ora abbiamo una finale da giocare Mamma mia Mamma mia Ed ecco qua le due squadre Pronte per la finalissima A sinistra I CDC A destra Le ali Destre Guidate dal capitano Leo Messi Ragazzi le statistiche Le vedete qua sotto Sono abbastanza equilibrate E allora andiamo dentro Col match Tutto pronto per la sfida Scendono in campo Le due squadre Raga io vi giuro Che non so cosa aspettarmi Da questa partita Cioè CDC contro ali destre Non abbiamo ancora mai visto Due squadre scendere in campo realmente Quindi la finale è l'occasione giusta Entrano in campo Da una parte il capitano E Leo Messi Dall'altra Sergio Bruschetta Che è anche il portiere La coppa c'è E allora Siamo pronti a dare il via al match Ma non prima di esserci messi in mezzo Da tutte e due le parti Perché raga Come sapete Io non faccio niente Io non voglio saperne Fa tutto il computer E allora Buona partita Diamo il via Alla finale Del torneo Tra ruoli di FIFA 23 Allora In maglia gialla I CDC In maglia verde Le ali destre Io Non so chi ti fare Raga Non mi aspettavo sicuramente Che arrivassero in finale Queste due squadre E quindi boh Che vinca il migliore Attenzione Subito Che sì È vero che i portieri Non sono dei portieri 1-0 per i CDC Che sì Mi aspetto tanti gol raga Mi aspetto tanti gol Da una parte In porta c'è Busquets Mentre nelle ali destre Chi c'è in porta? Boh Ogni tiro sarà un gol Praticamente Spettacolare Per la punta Fabinho Che la prende in qualche modo Fabinho Non ci capiscono niente I difensori Fan tutto a caso Dembele Eccolo chi è il portiere La parata Raga ma Le ali destre Vesse come i difensori Fan tutto a caso Uno si è buttato a terra Così Senza un senso Vabbè Mi sembrano molto più soli 15-DC Ve lo dico eh Anche se non dovrebbero Saper attaccare Almeno sanno difendere Messi Allarga per Felipe Anderson Felipe Anderson Rodrigo Rodrigo Vogliamo l'1-1 Tirate in porta Che tanto fate gol Sergio Busquets Non ne sa parare Manco mezza Messi Invece Busquets Gliela para Lo conosce Magari qualche volta In allenamento al Barcellona Hanno provato queste cose E gliela parata Vi giuro che non ci sto capendo niente In sta partita È tutto il contrario Di quello che dovremmo vedere In un campo da calcio E niente Busquets Ancora una volta la para Questa facile però Ottima uscita Fabinho Rodri Dentro Come giocano E Temblano ne prende mezza Temblano ne prende mezza Pessima scelta per la porta Per la squadra delle ali destre 2-0 Thomas Ha insegnato due mediani Strano eh Vero Ah già sono 11 i mediani in campo Occhio ancora ai cdc Engolo engolo Perché sì Che sì Sanno che se tirano i gol Sanno che se tirano i gol 3-0 Sandro Tonali Mamma mia i cdc Come volano Come volano Che squadra compatta Fabinho ancora Vogliono fare il 4-0 Prima della fine del primo tempo Cantè Mamma come giocano Che sì Che sì ancora Col tacco forse No la mette dentro Eh il passaggio è brutto Il passaggio è proprio da cdc E allora Usmane Dembele rinvia Ma non c'è più tempo Il primo tempo termina 3-0 Per i cdc Serebbe un'impresa Le ali destre Messi scende in cattedra va Anche se con un Busquets Così in porta Non è facile Siamo ripartiti Seconda operazione di gioco Ci provano i cdc Ma le ali destre Devono svegliarsi Devono trovare subito un gol Entro il sessantesimo Se vogliono entrare in partita Attenzione Felipe Anderson Questa non la prende Busquets Forse è la più facile 3-1 Abbiamo ancora una partita C'è uno spettacolo da vedere Thomas Partey Thomas Partey Dentro Frank Che palla ha messo Il mio gemello Rodri Nato Lo stesso giorno Lo stesso anno 22 giugno 1996 La mette dentro 4-1 Così raga Smettete anche di chiedermi ogni live E ogni video Quanti anni ho Sono nato Il 22 giugno del 96 Stesso giorno di Rodri Follia raga Mio gemello Separati dalla nascita di Rodri Felipe Anderson Per Rodrigo Vogliono darci un finale Marez ci regala un finale 4-2 Ma che partita stiamo vedendo La finalissima E' più accesa che mai Occhio però ancora Fabinho Per Partey E niente Non vogliono farcela riaprire la partita 5-2 Ancora in gol Thomas Partey E allora Rodri Adesso squadre allungatissime Doppieta anche perché si 6-2 Game Set Match E torneo vinto E allora Siamo al novantesimo Iniziano i due minuti di recupero Ma possiamo dirlo La squadra dei CDC Vince questo torneo tra ruoli E quindi Il ruolo di mediano Si conferma Il ruolo più forte Su FIFA 23 Anzi non è che si conferma Diventa il ruolo più forte Su FIFA 23 Aspettiamo solo che l'arbitro fischi E adesso è ufficiale I CDC Sono campioni Del torneo tra ruoli Di FIFA 23 Ed ecco la coppa del torneo tra ruoli Che in realtà è la coppa Dell'MLS Però va bene uguale Manca solo il capitano Pronto ad alzarla Eccolo qua Sergio Bruschetta Il più criticato E qua pronto ad alzare La coppa del torneo tra ruoli E dunque Con i CDC Che trionfano Nel torneo dei ruoli E alzano la coppa al cielo Io vi ringrazio per aver visto questo video Se ancora l'avete fatto Un mi piace Un'iscrizione qua sotto Davvero non è tutto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao raga Bella